Eccoci qua, buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi in questo webinar, siamo dal vivo e oggi vediamo tutte le novità che sono state annunciate durante Microsoft Ignite che è una delle conferenze più importanti per quanto riguarda i prodotti di collaborazione di Microsoft quindi Microsoft 365, Microsoft Viva e pure chiaramente Copilot perché se ne parla tanto adesso Io sono Giuseppe, benvenuti a tutti, vedo che anche oggi siamo in tanti, pian piano arriveremo tutti quanti Vi ricordo che siamo dal vivo, vi ricordo che questo è un webinar gratuito che facciamo ogni primo mercoledì del mese per vedere insieme un po' le novità che ci dice Microsoft sui suoi prodotti, per lo più di collaborazione quindi copriamo appunto le tecnologie di cui vi ho parlato prima Siamo dal vivo, vuol dire che potete fare qualsiasi domanda possibile e immaginabile e io vi rispondo tutto quanto, se c'è qualcosa che non conosco chiaramente vabbè lo approfondisco e poi vi rispondo nei commenti In qualsiasi piattaforma siete, tra LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter eccetera potete usare i commenti proprio della piattaforma In alternativa se siete sul nostro sito, che tra l'altro è nuovissimo, bellissimo potete fare clic in un'iconcina che ho in alto adesso o in alto a sinistra, adesso non mi ricordo si apre quindi la parte di commenti e potete scrivere Benissimo, allora direi di andare avanti e di iniziare un po' la nostra carrellata di cose Punto numero uno, vediamo le novità Aspetta che torno indietro C'avevo il mio grande capitolo, me lo sono dimenticato è meglio che lo faccio perché altrimenti poi tutto il resto dei capitoli sono tutti sfalsati, quindi faccio un casino Detto questo, quindi partiamo con le novità annunciate su Stream Stream è di fatto la piattaforma che ci permette di editare video, caricare video, condividere video Sapete che sta affrontando un passaggio verso, cioè da una sua area specifica verso SharePoint Online e durante Ignite Microsoft ci ha detto che sono state annunciate tante tante funzionalità La prima è la possibilità di fare gli edit nei propri recording Sapete già che Stream ci permette di fare registrazioni in completa autonomia registrazioni che poi possono finire appunto o su gruppi Teams oppure sul mio OneDrive In questo caso mi arrivano funzionalità a breve, nel 2024, non subito Per editare il video, però facendomi aiutare un po' Dalle AI che fondamentalmente identifica tutte le volte che dico Oppure faccio una pausa Lui vedi con un suggerimento su tutti i segmenti da rimuovere Mi permette di rimuoverli in un colpo solo Secondo me è molto molto utile Andiamo avanti perché chiaramente la scia di Copilot sta arrivando anche in Stream E questo ci permetterà di utilizzare appunto la AI generativa E quindi fare domande sul transcript dei nostri video Qualsiasi essi siano Quindi non solo quelli generati dalle riunioni Teams Dalle registrazioni delle riunioni Teams Ma anche quelli che io carico direttamente in Stream In qualsiasi archivio Sia nel mio OneDrive che in un gruppo Teams o in un sito SharePoint Questa funzionalità chiaramente necessita di una licenza di Copilot Però è la stessa licenza di Copilot per Microsoft 365 Che comprende le funzionalità di Copilot per Word, per PowerPoint, per Excel, bla 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 La funzionalità di Prime invece Gli edit personalizzati Diciamo aiutati dalle AI Sarà presente invece in un piano premium a pagamento Poi dopo vediamo qual è perché è legato a un altro degli argomenti che vediamo oggi Oggi parliamo di Stream Del nuovo planner Cioè in arrivo un nuovo planner Di SharePoint Premium Che è un po' diciamo la novità più grande per chi di noi lavora appunto con questi prodotti di Microsoft Per la gestione dei documenti, la gestione dei contenuti eccetera Vedremo le novità appunto di Copilot e le novità di Viva Ok? Bene, andiamo avanti perché finalmente sarà possibile tradurre quello che è stato il transcript Di un video caricato in stream Anche qui dovunque lo caricate È molto utile perché chiaramente ci permette di dare un'esperienza ai nostri colleghi multilingua a qualsiasi video Quando lo guardano Molto molto carino In più è arrivato Clipchamp anche per il mondo Enterprise Clipchamp è questo strumento che ci permette di fare un editing dei video Un po' più avanzato rispetto a quello che abbiamo visto prima Prima con le iStream ci identifica le pause Tutte le volte che dico Eccetera Invece in questo caso Vedi direttamente in OneDrive Con un'esperienza Anche volendo solo tramite il browser Io posso fare un editing di video in place Ok? Un po' più avanzato Clipchamp che arriva diciamo di default In tutte le licenze Microsoft 365 E si porta dietro diciamo la versione sai quella premium Quella un po' più avanzata Che avrà una licenza a sé stante Ancora non si hanno i dettagli Sarà disponibile in teoria adesso Ma in realtà Clipchamp lo stanno rilasciando Ok? Quindi noi ce l'abbiamo da un po' Perché abbiamo il tenant con la targeted release Però ho tenant di clienti che ancora non ce l'hanno Qualcuno ce l'ha E così via E questo è un po' lo standard di Microsoft Fanno dei rilasci diciamo Cadenziati nel tempo Per rilasciare a tutti i loro clienti Che sono tanti nel mondo Clipchamp Premium fondamentalmente Ci dà la possibilità innanzitutto di fare gli export in 4K Cosa che Clipchamp normale non ci offre Che vabbè è un plus Ormai video in 4K E' vero che si vedono dappertutto Però ancora sul web ce ne sono pochi Secondo me quindi Non lo so Magari si può valutare tra un po' La parte premium E ci saranno delle analytics un po' più avanzate Rispetto a quelle che ci saranno presenti di default E in più c'è il brand kit Queste sono per ora le cose che sono state annunciate Il brand kit significa avere la possibilità All'interno del tuo studio Quindi dell'area in cui tu fai l'editing dei video Di usare i tuoi colori I tuoi loghi Il tuo brand Blah 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 Ovviamente per cose diciamo più aziendali Poi arrivano nuove modalità Per fare il recording dei video In cui si introduce la propria webcam Come vedete è possibile Sia fare Diciamo togliere il background E quindi fare questa modalità In cui stai sopra le slide O comunque sopra lo schermo che condividi Puoi fare modifiche Direttamente nella whiteboard È stata integrata la whiteboard E in più c'è il teleprompter Questo è carino Ovviamente senza utilizzare nessuna applicazione Che è diciamo di terze parti Ti puoi mettere il teleprompter direttamente Nel tuo schermo E leggere quello che ti sei preparato prima Durante la registrazione Teleprompter è molto utile Per chi diciamo non si ricorda quello che deve dire Magari ha poco tempo per preparare la registrazione del video Allora si fa aiutare in questo modo Ci sono anche i teleprompter fisici Che funzionano Diciamo Alla fine un po' meglio Perché si mettono esattamente qui E quindi tu guardi la telecamera Leggi e sembra un video Diciamo semivero In questo caso in realtà tu dovresti guardare Lo schermo È vero che il teleprompter Lo puoi mettere un po' in alto Quindi se la webcam è in alto Comunque viene fuori una registrazione abbastanza decente Però non è come quello fisico Però è comunque un buon improvement Ok? E lo stanno rilasciando Questo lo stanno rilasciando Benissimo Ciao Raffaele Benvenuto Oh finalmente Finalmente qui con noi Bene Vi ricordo che siamo live Quindi qualsiasi domanda volete fare Fatemela pure Che approfondiamo Poi sempre per stream Sta arrivando il play in line Play dei video in line Cosa vuol dire? Vuol dire che in qualsiasi applicazione di Microsoft 365 Noi ci troviamo Riusciamo a fare il play del video Senza aprire diciamo il browser E vedere il video nella pagina di stream E qui lo vedete Si può fare direttamente in Teams Si può fare in Outlook Si può fare in PowerPoint In OneNote In Loop Nella Whiteboard Eccetera eccetera Stanno unificando fondamentalmente Il player di stream In modo tale che Possa essere Fruito il video In preview Ok? Direttamente dove Nel contesto in cui ti trovi Se vuoi poi Una esperienza full Allora Fai click sulle classiche iconcina E ti riporta poi Nell'applicazione web Che di fatto poi È la pagina di dettaglio Del video di stream Ok? Poi Puoi mandare Questo è carino Puoi mandare un video record Da Outlook Assieme a un'email Magari Non so Non vuoi tediare Il tuo collega A leggere un'email Molto lunga Puoi registrare un video E questo video Finisce allegato all'email Ovviamente Non stiamo riempendo L'email Di video pesanti Eccetera eccetera Ma Chiaramente Nell'email Viene mandato il link Al video del tuo OneDrive Quindi un file Che è stato condiviso Automaticamente Con la persona Con cui stai Diciamo Con cui vuoi interagire Mandando un video Via mail E così lui Non se lo deve scaricare Ma se lo guarda Sempre in line In Outlook Sfruttando la funzionalità Di prima Questo è un coming soon Quindi non c'è ancora Una data Però chiaramente Ci aspettiamo Prima metà Del 2024 Secondo me questa È una funzionalità Molto carina Che ci permette Di evitare Un po' Di meeting Che solitamente Facciamo E qui c'è Un diciamo Una buona pratica Insomma Da prendere Chiedersi Se il meeting Che sto per fare È quello giusto E magari usare Strumenti come questo Per risparmiare Un meeting A noi stessi A tutti i colleghi Poi sta arrivando Una nuova applicazione Di stream All'interno di Teams Cioè un punto unico Dove vedere Da una parte Tutti i video Che sono stati Condivisi con me Quelli che ho Condiviso io Quelli che sono Stati generati Dalla registrazione Di un meeting Posso farmi le playlist Quelli che ho condiviso E così via Quindi fondamentalmente Quella che era No? Sai prima La home Di stream Eccetera Sta arrivando In una versione Completamente nuova All'interno di un'app Teams specifica Molto carino Questo Secondo me Sarà molto utile È una bella Diciamo Gallery di video In questo caso Non viene utilizzata Sai Per mettere Un po' come era Stream prima I video Visibili a tutti In azienda Ma è proprio Un tool personale Di gestione Dei video Gestione e accesso Ai video Ok Poi Soft stream Oh questo mi piace Perché è molto utile Sai quando facciamo Le registrazioni Su Teams Magari ci sono dei punti Che vuoi tagliare Finora Su stream Era possibile Solo tagliare L'inizio e la fine Quindi avevi un blocco Potete tagliare Inizio e fine Invece come vedete adesso Ci sono le due Iconcine In una forma In una forma In una forma di forbice Io posso Tagliare I singoli pezzi E qui Oltre diciamo A questa utilità Che chiaramente Ti permette Di fare in modo Che gli utenti Finali Guardano solo I pezzi Che tu hai Che tu non hai Tagliato Ok Quindi lui Ti toglie Quelli tagliati Ma la cosa bellissima È che Il video originale Non cambia Ok Questo era uno dei Secondo me Lati negativi Che aveva stream Finora Perché Quando facevi Questo trim Di cui vi ho parlato Prima Quindi toglievi Inizio e fine Fondamentalmente Lui ti diceva Attenzione Guarda che Stai modificando Il file video originale Ecco in questo caso No Il file video originale Rimane sempre disponibile Per te Per un download O per visualizzazione Chiaramente Ma Agli utenti finali Viene invece Fatto vedere Solo le parti Che non hai Trimmato Secondo me Questo è molto Molto utile Poi Call out E form Fondamentalmente Quando Do la registrazione O comunque Un video O qualsiasi Registrazione Di una Meeting di Teams Lo do Per farlo fruire I miei colleghi Ho la possibilità Vedete Con dei semplici Drag and drop Di mettere In specifici Punti del video Quindi a uno Specifico minuto Uno specifico Secondo Posso mettere Sia dei call out Quindi dei Non so Dei balloon Mi viene Dei messaggini All'interno Del video Oppure Anche dei form Fatti con Microsoft forms E questo è molto Molto utile Per rendere Diciamo L'esperienza Di fruizione Del video Un po' Più avanzata Poi È possibile Caricare un video Togliere L'audio E caricare Un file audio A parte Che può essere utile Sai per fare Il voice over Per dare Comunque Una Una maniera Alternativa Di raccontare Il video Dopo che È stato Registrato E questo Su qualsiasi Video Stanno arrivando Poi I meeting notes Sapete che È in rilascio La possibilità Di utilizzare Un componente Di loop All'interno Di Teams Quando fai Un meeting E di fatto Questo ti permette Di modificare Le note Di riunione In tempo reale Fare un co-authoring Su quelle che sono Appunto Sì Le note Del meeting Ecco La stessa cosa Lo potrei fare Poi Anche all'interno Di stream Stesso A meeting Completato Quindi co-authoring Non solo Durante Il meeting Di Teams Ma anche Dopo sul video Diciamo Che è stato Che è presente E registrato Ok Poi Questo secondo me Risolve Un bel po' Di problemi Che abbiamo avuto Anche noi Insomma In tanti Meeting Che si fanno Per le aziende C'è la possibilità Adesso Di condividere Con tutti i colleghi Durante un meeting Di Teams Un video Ok Quindi Non devo più Condividere lo schermo Far partire il video E stare attento A non muovere il mouse Per evitare Che si veda So Al player Che punto è Ste cose qua E soprattutto Evito in questo modo Di avere Sai Problemi di Risoluzione Problemi di Banda Magari il video Si vede a scatti Robo di questo tipo E con questa possibilità Che è stata chiamata Da Microsoft Co-Watch Videos Quindi Guardiamo il video Tutti insieme Diciamo più o meno Ho la possibilità Di usare stream Per fare l'upload Di un video All'interno del meeting E farlo lanciare A tutti In completa autonomia Gli utenti Possono Scegliere Se Diciamo Guardarselo Con una timeline Diversa Dal presentatore Oppure Se ritornare live Quindi c'è la doppia funzionalità E secondo me Questo risolve Un bel problema Che c'è sempre stato Nei meeting di Teams Quello della Condivisione di contenuti video Non vedo l'ora di provarlo Dice Coming soon Non ci sono date ancora Comunque Come dicevo prima Mi aspetto Che nella prima Metà del 2024 Queste funzionalità Arrivino Poi Arrivano nuove Part Di stream Su SharePoint Che ci permette di vedere O video singoli Oppure set di video Con questa grafica Quindi Video Che stai vedendo In alto Oppure Slider in basso Oppure c'è una grafica Classica A griglia Ok E qui Diciamo Potete vedere O tutti i video Che sono caricati Nel sito SharePoint Che state vedendo Oppure singoli video Oppure Anche video Da una folder specifica Secondo me Questa è una Una funzionalità Molto carina Per arricchire Un po' Le nostre intranet No Con funzionalità Di visualizzazione Video Poi Finalmente Sta arrivando La possibilità Di fare Il Un post Con più video Sapete che adesso Su SharePoint Si può fare Un post Di comunicazione Al post Di scrivere Il solito muro Di 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 testo Possiamo Fare una news Con un video Bene Adesso Sarà possibile A breve Di Sarà possibile A breve La creazione Di Un post Con più video Molto Molto utile Poi Stanno Fondamentalmente Aggiungendo Un po' Più Di Analytics E Questo purtroppo C'è una Postilla Perché Saranno Appunto Necessarie Queste Licenze Premium Di cui Poi Parliamo A breve Per avere Leverage Watch Time Di un video Che solitamente È un'informazione Molto Molto Utile Per Chi Pubblica Video All'interno Dell'azienda L'utilizzo Per device Molto utile Ma soprattutto E questo Un po' Per Diciamo Ambiente Un po' Per Enterprise I video Per Geolocation Quindi Quanti hanno Visto Dall'Italia Quanti hanno Visto Dall'America Blah 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 Per ora Diciamo Anche in questo caso Sono state solo Annunciate Vedremo Insomma Che cosa Che cosa Verrà fuori Perché Comunque L'ambito Analytics È comunque Diciamo Molto 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 Importante In generale Per l'utilizzo Della Intranet Ma soprattutto Per l'utilizzo Dei video Perché Finora Analytics Dei video Sono state Molto povere C'erano le Visualizzazioni Il numero Dei like E fondamentalmente Basta Mi dispiace Sempre che Questi dati Non vengono Diciamo Dati Anche per le famiglie Professionali Che invece È una cosa Che il nostro Prodotto Dà Fondamentalmente Cioè Analytics Sull'utilizzo Di SharePoint Però filtrabili Per le company Dei colleghi Oppure per Le country Le sedi I dipartimenti Cose di questo tipo Perché in questo modo Ci si fa Una vera idea Di chi utilizza Di più E chi utilizza Di meno I vari contenuti Che hai Sulla intranet E secondo me Questa cosa Era utile Anche A livello video Però A quanto pare O dobbiamo aspettare O non arriverà mai Quindi Vedremo Allora Vedo Una domanda Allora Dilan Ciao Grazie per l'insight C'è una novità Per il brand center Di SharePoint Non ancora Non ancora Questa è una bella Rottura di scatola Anche per noi Devo dire la verità Noi lo stiamo aspettando Con ansia Questo brand center Che finalmente Ci darà La possibilità Di Di cambiare il font Su SharePoint Però no Ancora non ci sono novità Tra l'altro Sempre Dilan Ha fatto una Diciamo Un upgrade Alla sua domanda E dice Se ci sono novità Riguardanti L'estetica E la grafica Che erano state annunciate In precedenza E no 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 Ancora no Purtroppo Diciamo Stiamo un po' aspettando C'era scritto Che il brand center Arrivava alla fine dell'anno E quello che vedo io Diciamo Nell'aggiornamento Di questi tool Di Microsoft È che Copilot Sta Diciamo Risucchiando Tutte le energie Che Microsoft Ha Che mette Chiaramente In maniera Non so Che divide Sugli altri stream Copilot Sta Veramente Prendendo La maggior parte Delle energie Ecco E quindi vedo Che i rilasci Di funzionalità Che magari Erano state annunciate Sono un po' più Dilazionati nel tempo Arriverà Perché comunque Lo vedo citato Ancora In diversi punti Però Secondo me La timeline È un po' In ritardo Ok Bene 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 Andiamo avanti Fammi vedere Se Avevo un'altra slide Ah sì 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 Giusto Perché ci sono improvement Anche alla Parte di Di avvio Di stream Cioè quando Fate click Sull'app stream All'interno di Microsoft 365.com Qui fondamentalmente Vedete subito I I I video Raccomandati C'è una nuova View In modalità Thumbnail C'è la possibilità Di Direttamente Da questa pagina Di fare l'upload Sul mio OneDrive Su SharePoint Insomma Filtrare tutti i video E come vedete La stessa visualizzazione Che io ho Nella Teams app Di cui abbiamo parlato Prima Fondamentalmente Ok Sono andato troppo avanti Di slide E quindi Vi introdurrei Il prossimo Capitolo Cioè Il nuovo Planner Eh sì Perché Microsoft Che cosa Ha fatto Ha fondamentalmente Annunciato L'arrivo Di una nuova versione Di planner Che risistema Un po' Le cose Che ci sono Nell'ambito Task Personali Di gruppo E anche Gestione Progetto E Fondamentalmente Il Diciamo L'attuale situazione Qual è È che Finora abbiamo utilizzato Sempre To do Per i miei Task Personali Le mie attività Personali Integrato In Outlook Poi Abbiamo usato Planner Per le attività Di gruppo In maniera Agile E poi abbiamo Utilizzato Project Server O comunque Project Online O comunque Project Di Microsoft Di Microsoft L'applicativo Standalone L'abbiamo Utilizzato Per fare Invece I progetti Quelli dove Ci serviva Il Gant Dove ci servivano I task Collegati Un l'uno All'altro Il critical path L'assegnazione Delle risorse E così via Tutte funzionalità Di project Queste No In questo caso Microsoft Con questo nuovo Planner Che cosa ha fatto Ha annunciato Fondamentalmente Un tool Che mette insieme Tutte queste necessità Ok Vi faccio vedere Adesso Come Come funziona Allora Punto numero uno Vedete C'è Una nuova applicazione Di Teams Che si chiama Planner Quindi Che sostituisce Comunque C'è un rebranding Della Task By To Do Planner Che c'è adesso Su Planner Io posso creare O Dei plan Basic Basic Oppure Dei plan Advanced E Sugli Advanced C'è tutta la parte Di gestione del progetto Sprint Goals Eccetera Eccetera E la parte Basic È quella Fondamentalmente Che siamo Abituati a utilizzare Finora Quindi Con le board La possibilità Di aggiungere Task Di assegnarli Di mettere Il plan Dentro un gruppo Di vedere I task Per griglia Per 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 Un calendario Oppure Vedere Il recap Diciamo Sui KPI No I report Queste cose qua Stesse cose A cui siamo Abituati Finora Con l'utilizzo Di planner Una cosa in più È che c'è La possibilità Di condividere Il piano Anche con Gruppi esistenti Questa secondo me È una cosa carina Mentre prima Un piano era legato Per forza a un gruppo Adesso invece Ci sono i piani Cross gruppo Questa secondo me È una cosa carina E Se invece Voglio Diciamo Funzionalità Un po' più avanzate Passo su Quella che diventerà Una licenza Planner Premium Ok Che incorpora Funzionalità Che erano Di project Per il web Quindi in questo caso Vedi posso fare Un nuovo piano Innanzitutto Nella premium Planner premium Ci sarà integrato Copilot Che invece non sarà Il copilot Di Maxo365 Finalmente Che mi aiuta In questo caso A scrivere i task A generare le descrizioni Blah 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 C'è una parte Che mi piace Per Diciamo Argomento Però non mi piace Come è stata fatta Speriamo che la cambino Che è la parte Dei goals Fondamentalmente Su ogni progetto Posso definire Quelli che sono gli obiettivi Qui mi sarebbe piaciuto Che la La legassero A Viva goals Poi come avete visto C'è la timeline Quindi finalmente Posso legare Un task A un altro Quindi far sì Che sia il task Dipendente E vedere il critical path Questo è molto utile Altrettanto utile La possibilità Che state vedendo adesso Di aggiungere Nuove colonne A i task Che ci sono In planner Questa è una funzionalità Che hanno chiesto Sempre tutti Non c'era mai stata E finalmente Ce la danno Con una versione Di planner premium Che di fatto Come vi dicevo È Project for web Per il web Siccome sono Diciamo Si usa Alla fine La UI di SharePoint C'è anche il formatting Sulle colonne C'è poi un'area Dove io vedo I miei task E qui Fondamentalmente Ritrovo tutti i task Che sono andato a mettere In to do Per i personali E poi tutti quelli Che mi sono stati assegnati E per cui ho una Due date Nei vari piani A cui partecipo Quindi questo è quello Che diciamo Microsoft Sta facendo Con il nuovo planner C'è una timeline Che secondo me È utile Diciamo Vedere Perché Punto numero uno Da oggi A inizio 2024 Inizieranno A rinominare Project per il web In planner Ok Quindi Avvisate I colleghi Chi ha già Licenze Project per il web Deve stare Diciamo Tranquillo Perché fondamentalmente Quelle licenze Verranno Tramutate In planner Premium E di fatto Tutte le funzionalità Che c'erano prima Su project per il web Verranno portate In questa nuova Interfaccia Su planner Tutto questo Diciamo Nuove funzionalità Arriveranno Later Nel 2024 Quindi avrete Tutto il tempo Insomma Per prepararvi A questo cambio Later Nel 2024 Secondo me Vuol dire Verso la fine Del 2024 Settembre Ottobre Più o meno Sarà così E invece In primavera Ci dicono Che arriva appunto Questa nuova App di planner In teams Quindi Quella che Magari adesso Utilizzate Che si chiama Tasks By to do And planner Diventerà Planner E verrà fatto Questo Rebrand In primavera Quindi Avvisate I colleghi Tenetevi pronti Al cambio Perché Non sarà Diciamo Gestibile Cioè sarà Per tutti E ciao E se vedete Adesso Chi usa Già planner In alto Ha una sorta Di alert Che gli dice Ciao Guarda che Tra un po' Tasks By to do Diventa planner Quindi Già un po' Li stanno avvisando Gli utenti Se volete Poi Informazioni Su planner C'è Nel post Che Microsoft Ha fatto Per annunciare Questo nuovo planner Dove c'è Dove ci sono Tanti Tanti video Eccetera Eccetera E ci sono Tutte le risposte Alle domande Che Di solito I clienti Stanno facendo Su Questo cambio E C'è scritto Proprio tutto Quindi Dateci un'occhiata E Allora Vedo una domanda Andrea che chiede Quante persone Devono avere Licenze premium Per usare Queste funzionalità Solo i PM O tutti gli utenti Che collaborano Con i PM E questa È una bella domanda In teoria Dovrebbe essere Come Project Per il web Quindi tutti Tutti gli utenti Che collaborano Con i PM Perché Avete visto Anche nel video Di prima Che c'è un'area In cui io vedo La disponibilità Delle risorse Che è una delle funzionalità Che c'era su Project Per il web Per cui ogni risorsa Doveva avere Una licenza Però mi riservo Di verificarlo Perché Sapete È stato appena annunciato Ignite è stato fatto Oggi siamo al 6 Due settimane fa E ancora Questi dettagli Insomma Su piani e prezzi Non ci sono Però mi aspetto Che sia esattamente Come Project Per il web Ok Ciao Andrea Spero di averti risposto Bene Ci sono le FAQ Per tutto Dateci un'occhiata Perché Perché chiaramente Perché ci sono Anche dei piani Di Project Che in realtà Non vengono Non vengono Toccati per ora E qui leggete Tutto quanto Ok Per esempio Project Server Tutto un Un giro Un giro a parte Insomma Dateci un'occhiata Va bene Ok 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 Andiamo avanti E vediamo un po' Invece Quelle che sono Le novità Lato SharePoint Ok Perché Cos'è successo Che Hanno fatto Insomma Fuochi d'artificio Durante Ignite Per annunciare Questo nuovo Prodotto Comunque Questa serie Di funzionalità Che in realtà In gran parte C'erano già E quasi tutte Erano già state annunciate Non nel dettaglio Però comunque C'erano già informazioni E che sono State messe Sotto il nome SharePoint Premium Ok In soldoni Che cosa hanno fatto Hanno Fatto un rebranding L'ennesimo rebranding Tra parentesi Di Microsoft Syntax Quindi Tutte quelle che erano Le Capabilities Che ci sono già adesso Che si possono utilizzare Con Microsoft Syntax Adesso Sono passate In un Nuovo nome Che si chiama SharePoint Premium E qui c'è Uno dei vice president Che ha presentato A Ignite Che addirittura Si è preso Per il culo Da solo Perché ha detto In effetti In Microsoft Abbiamo qualche problema Con i nomi Dei prodotti E fate conto Che questo SharePoint Premium Viene da Project Cortex Che era il progetto Stesse funzionalità Progetto appena annunciato Poi è diventato SharePoint Syntax Poi Microsoft Syntax E adesso SharePoint Premium Quindi quattro nomi Li hanno fatto cambiare E vediamo un po' Di cosa si tratta Perché Di base Abbiamo tutte le Possibilità Questo è il post Di annuncio Abbiamo tutte le Possibilità Di gestione Del contenuto Che ha adesso Microsoft Syntax Ok Che di fatto Che cosa sono Fondamentalmente La possibilità Di utilizzare Le AI Per Diciamo Estrarre Contenuti Dai documenti Per classificare Le immagini Per riconoscere Un documento Per capire quindi Se si tratta Di un contratto Di una proposta Quindi un documento Non strutturato Ok L'estrazione Invece la posso fare Da un documento Strutturato E un po' Di altre cose Tutte queste Erano sotto Diciamo Il cappello Di Microsoft Syntax Fino ad oggi Con SharePoint Premium Oltre a tutte Queste funzionalità Che sono già In produzione Già le stiamo usando Facciamo già progetti Insomma Con queste funzionalità Che tra l'altro Sono super utili E super performanti Perché L'estrazione Di un dato Da un documento Fatta con SharePoint Premium È allucinante Io l'ho vista funzionare Capisce Che è una data Quindi Mi mette Diciamo Un'informazione Estratta da un documento In formato data In una colonna Di SharePoint Anche se la data È scritta 12 Augg 2023 Con scritto tutto In corsivo Incredibile Io non Cioè non pensavo Che mi beccava Una roba del genere Invece su SharePoint Ho visto 12 08 2023 E proprio in formato data Fantastico Oltre a queste funzionalità Che sono Diciamo Già Già Inutilizzo Abbiamo la possibilità Di Aggiungere Un po' Di note Scarabocchi Sottolineature Nei documenti Quando sono In preview Ok Vedete C'è questo nuovo tastino Annotate Mi permette Di annotare Diciamo qualcosa Quando sono Nella preview Di un file Molto carino Punto numero due Arriverà Una nuova app In Teams Che si chiama Business Documents App Fondamentalmente È un po' Il proseguio Di quello Che era prima Su Syntex La funzionalità Di gestione Dei contratti Ok Adesso hanno messo Diciamo In un punto unico Questa applicazione Dove io Vedi posso Creare un nuovo Agreement In questo caso Perché ho creato Il template Dell'Agreement Metterci un po' Di dati Far sì che Venga generato Un documento Con i dati Che ho inserito In automatico Questa era la funzionalità Di generazione Dei documenti Che c'era prima Su Microsoft 365 E Microsoft Syntex Adesso è stata Diciamo Messa all'interno Di un'app Specifica Che hanno chiamato Business Documents App Secondo me è molto utile Perché insomma Copre uno dei problemi Che di fatto C'è da sempre Nella creazione Di documenti Vedremo un po' Come funzionerà Ancora è stata Solo annunciata Non si può Usare nulla Però la cosa bella Che qui viene citata Infatti ve l'ho sottolineata È questa Che fondamentalmente Sarà possibile Quando ho Diciamo Due contratti Magari uno Quello originale Che ho scritto io L'altro Quello con le modifiche Che mi ha fatto Il fornitore Io li posso Comparare Che vabbè Si può fare anche Col Word Voi direte È vero Però in questo caso Le AI Mi dice Mi mette Nei light Le cose che sono state Modificate Soprattutto i rischi Che questa modifica Porta Mi porta All'attenzione Magari Contenuti particolari Legati a queste modifiche Secondo me Questo È molto Molto interessante Da approfondire Ok Da approfondire Quando sarà Disponibile Poi Finalmente Questa L'avevano annunciata L'anno scorso La firma elettronica Si chiamava Microsoft 365 E-Signature Adesso si chiama SharePoint E-Signature Fondamentalmente Ci permette All'interno Di una document library Di selezionare Un file Fare Get Signature Quindi Iniziare Una sorta Di Ops Una sorta Di Flusso Di Richiesta Delle firme Posso andare A specificare Ovviamente Una O più persone Ok Facendo next Appunto Ne aggiungo altre Qui c'è tutto Un flusso Da seguire Se volete Potete farlo È proprio È carinissimo L'hanno messo Dentro Il post Dell'annuncio Insomma Di queste funzionalità E poi Vado a Specificare Fondamentalmente Dove In che punto Del documento Io voglio avere La firma visibile E questo Se Diciamo Conoscete DocuSign Oppure Adobe Sign Insomma Vi accorgerete Che è esattamente Quello che Fanno Loro Da qualche Anno Ok La cosa Che purtroppo Ancora non Mi è chiara Vedi così Ho messo La signature Della persona Così ci metto La data Ok E vado avanti Questo Metto la signature Di un'altra persona Bla 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 E la cosa Che non mi è chiara È il tipo Di Firma Che viene Messa Perché Sapete che Le firme Elettroniche Ce ne sono Di vari Tipi C'è la firma Elettronica Semplice Quella Avanzata Quella Qualificata Ok Quella Qualificata Mette proprio Il certificato Mio Come se fosse Quello dello speed No Noi italiani Conosciamo lo speed Mi mette il certificato All'interno Del contenuto Del file Qui Questa Del certificato Non credo Che ci sia Ci saranno E credo Che invece Si fermi Alla firma Elettronica Avanzata Perché L'avanzata Richiede Diciamo Un meccanismo Di Verifica Di chi firma In effetti Su Microsoft 365 La doppia Verifica C'è con L'autenticazione Doppio fattore Quindi Secondo me Sarà così Però Approfondiremo La cosa importante Che però Vi volevo far notare È che Vabbè Posso chiedere firme Interne o esterne Molto utili Però Attenzione Attenzione ai costi Perché Tutte queste Funzionalità Di SharePoint Premium Hanno un costo A consumo Quindi non ci sarà Una licenza Utente mese Come siamo Diciamo Sempre stati Abituati Su Microsoft 365 Ma ci sono Dei costi A consumo Questi che vedete Per esempio 0,01 centesimi Di dollaro È il costo Per l'estrazione Di Dati Da un documento Per ogni pagina Ok Quindi Se fate un progetto Con SharePoint Premium Che usa Questa funzionalità Questo è il costo Dicevo Attenzione Perché vedete C'è un Appunto Una voce E signature Che prevede Fondamentalmente Due dollari Per ogni firma Che viene applicata Sul documento Sia Quindi vostra Che di un Che di un esterno Chiaramente Bisogna fare La bilancia Rispetto A I problemi Che ci possono essere Ad avere Una firma Non elettronica Su un documento Rispetto a Spendere Due dollari Per ogni Per ogni firma Così a Naso Non conosco I costi Di Adobe Sign Conosco un po' Quelli di Invece di DocuSign Questo è un po' Più alto Però D'altra parte DocuSign Non ha la firma Qualificata Neanche lui Quindi Insomma Ci sono delle analisi Da fare No? Chiaramente Microsoft però Ci dice che In questa Diciamo Con questa funzionalità Arrivano anche Diciamo Partnership Più Strette Appunto Con Adobe Sign E DocuSign Che di fatto Sono i leader Del mercato Delle firme elettroniche In questo momento Ok Bene Andiamo avanti Poi Nel Pay is go Quindi Nel costo a consumo Di SharePoint Premium Ci sono anche Alcune delle funzionalità Che abbiamo citato Prima su Stream Quindi per esempio La traduzione Viene Scalata da lì Alla fine Sarà consumo Azure Ok Anche tutto questo Che avete visto prima Sarà tutto consumo Azure Tutti questi costi Sono stati messi tutti Sono stati messi tutti Come consumo Azure Comunque è comodo Perché Su portal Azure Avete un punto unico In cui tracciare questi costi Eccetera Un'altra funzionalità Che vi volevo Diciamo Mettere in evidenza Che è stato annunciato Durante Ignite Autofill columns Fondamentalmente Sapete Che quando vado A fare l'upload Di un documento Su una document library SharePoint Io lo posso Arricchire Con dei metadati Questi metadati Possono essere Di qualsiasi tipo E per ora A parte appunto Le eventuali automazioni Oppure L'utilizzo Della Image recognition Da parte di modelli Di intelligenza artificiale Di Microsoft Il resto delle colonne Le devo mettere a mano Ok E con questa funzionalità Vedete C'è la possibilità Di dire Guarda che Fammi una nuova Colonna details Ok E Mettici dei dati In automatico In base a questo prompt Questo mi piace Lui dice proprio Valuta questo documento Poi Se all'interno Ci trovi Informazioni su un prodotto Di cui Diciamo Il materiale È descritto Come Waterproof Lightweight Ha la protezione Per i laggi ultravioletti Eccetera Eccetera Allora Taghi Diciamo Questo documento Scrivendo All criteria Mett For summer Launch Ok Quindi una descrizione Altrimenti Mi dici Quali sono I criteri Che io ti ho detto Prima Che sono missing Ah Fantastico Questo mi piace Ti permette anche Di selezionare un file E fare un test Del tuo prompt Così per fare Diciamo Un'autoclassificazione Dei documenti Creando dei metadati Basati sul contenuto Stesso del file Tramite le AI Cavolo Bellissimo Questo è Secondo me Una delle funzionalità Più belle Che si sono inventati Non vedo l'ora di provarla Anche qua È tutto in coming soon Ok Bene C'è poi Ci sono un po' di novità Questi casi Di siti O file Che sono stati condivisi Con questo gruppo C'è un rischio Molto alto Con Copilot Che persone Che magari Non devono vedere Questo contenuto Che è stato condiviso Per sbaglio Con questo gruppo Invece con Copilot Lo vedono Perché Copilot Tu puoi fare una Una ricerca Testuale E accedi un po' A tutto quello Che hai accesso E con questo report Si riesce a capire Insomma Quali sono I siti Le aree di SharePoint Che hanno questa apertura Secondo me Molto importante E soprattutto Viene aggiunta Con SharePoint Premium Questa possibilità Di richiedere una review Su queste tipologie Di accessi Ai colleghi Qui c'è Qualche Screenshot Vedremo bene Come sarà Mi sembra Una buona Una buona via Quella che sta prendendo Microsoft Poi Ci sono Diciamo Nuove informazioni Su Microsoft 365 Archive Che è Diciamo La nuova possibilità Che abbiamo Ad oggi Di gestire un po' Quello che è Lo spazio Su SharePoint Online Sapete che Su SharePoint Online Noi abbiamo Un terabyte Più Dieci giga Per ogni utente Che abbiamo Con licenza Quindi Abbiamo cento utenti E cento per dieci Un tera E quindi Due terabyte Di spazio Come esempio Ok E cosa succede Che SharePoint Online È uno strumento Che è nel mercato Da tanto tempo Le persone Hanno continuato A mettere file Su file Sia su SharePoint Online stesso Sia su tutti i gruppi Teams Che di fatto Hanno un sito SharePoint Sotto il sedere E qui fondamentalmente Siamo arrivati Ad avere Qua su ActiveSites Noi abbiamo Già clienti Che hanno Pochissimo spazio Disponibile Microsoft 365 Archive Ci permette Di identificare Quelli che sono I siti Che vengono Utilizzati poco Ok E Spostarli appunto In un Spostarne i contenuti In un'area Di archiviazione Che Rispetto Ai costi Che invece Ha Lo spazio Di SharePoint Perché è vero Che tu hai Due tera Se hai Cento utenti Con licenza Però è uno spazio Che puoi aumentare Ok Pagando E Lo spazio Di Microsoft 365 Archive Costa di meno Perché Perché Non ha le funzionalità Di collaborazione Che ha SharePoint Lo spazio di SharePoint Costa un po' di più Perché ha le funzionalità Di collaborazione Questa è La principale differenza Se ritorniamo qua Vediamo che Microsoft 365 Archive Che è oggi In preview Quindi Non utilizzatelo Per produzione Mi raccomando Ha un costo Vedete 0,05 Giga al mese Mentre invece Lo spazio di SharePoint È 0,2 Giga al mese Ok Chiaramente Una bella differenza Una bella differenza Attenzione qua Però Che Se volete Diciamo Se arrivate A essere vicini Al limite Non volete Aggiungere subito Nuovo spazio Tra quello di SharePoint E quello di Microsoft 365 Archive Anche perché È ancora in preview Come vi dicevo Noi abbiamo Una soluzione Che ti permette Di vedere Quanto spazio È utilizzato Dalle Versioni Dei file Di SharePoint E permette Anche di Liberartelo Sapete che Su SharePoint Online Ci sono Fondamentalmente C'è questa funzionalità Di version history Quindi lui Ogni modifica Che i vostri colleghi Fanno un file Lui salva La versione Del file precedente Così non ti perdi Le modifiche Bellissimo Sta di fatto Che nel tempo Tutti gli utenti Continuano a fare Modifiche 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 Chiaramente Queste versioni Vanno a togliere Mega Da questo spazio Qua E quindi Vi ritrovate Il tenant Pieno Con il nostro tool È possibile Liberare Questo spazio Innanzitutto È possibile Vedere Quanto spazio C'è Che viene occupato Da queste Versioni E poi È possibile Liberarlo Su tutti i siti O su siti Specifici E anche Scegliere Quante versioni Precedenti Lasciare Molto molto Utile Abbiamo dei clienti Che avevano Appunto Questi famosi Due tera Di spazio Perché c'erano Cento utenti Con licenza Erano arrivati A un tera 95 E gli abbiamo Ridato Un tera Libero Ed era un tera Solo di versioni Vecchie Pensate voi Che roba Se siete interessati Vabbè Ci iscrivete Tanto avete Tutti i modi Per Per scriverci Bene Ecco SharePoint Premium Di fatto Ha funzionalità Che sono già pronte Perché erano quelle Di Microsoft 365 Di Microsoft Sintex Quindi I contratti L'estrazione Dei Informazioni Sui documenti L'OCR Per capire Quando ci sono Delle immagini Che cosa si trattano Le signature È già disponibile Eccetera E Il resto Sarà Fondamentalmente Nel 2024 Ancora non ci danno Date Certe Ok Bene 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 Andiamo avanti Velocemente Perché mancano Dieci minuti E parliamo Di quelle Che sono state Le novità Annunciate Dato Copilot Ok Copilot Avete visto Che di fatto È uno Degli Cioè Dei Argomenti Che interessano Di più A tutti Nel mondo C'è stato Il lancio In generale Levelability Che in realtà Non è stato Tanto general Nel primo novembre Ne abbiamo parlato Nell'ultimo webinar Andate a vedervi La registrazione Sul mio canale YouTube Basta che scrivete Giappe Marchi Trovate tutto Durante Ignite Microsoft Ha aggiornato I clienti Che sono interessati A Copilot Aggiungendo un po' Di informazioni Punto numero uno Tutte quelle che erano La Bing Chat La Bing Chat Enterprise Adesso si chiamano Tutte Copilot Hanno anche qua Unificato un po' I nomi Ok E fondamentalmente Vedete Rimane Diciamo Quello che Dicevamo anche Nel webinar precedente Per cui Copilot Che è il vecchio Bing Chat Enterprise Disponibile già adesso For free Ma solo per chi ha Microsoft 365 E3 E5 Oppure business standard Business premium E che ti permette Di usare Funzionalità Di chat GPT Però con la protection Sui tuoi dati Ok Invece Copilot Per Microsoft 365 30 dollari Utente mese In Italia 29 euro Utente mese Ti permette Di fare tutto questo Ma con in più Il lavoro Con i tuoi dati E soprattutto Il lavoro Con le app Di Microsoft 365 Durante Ignite Hanno annunciato Sia Copilot For Sales E Copilot For Service Che fondamentalmente Riguardano le funzionalità In integrazione Con Dynamics Quindi per la parte Di CRM E per la parte Di Customer Service Molto carine Se siete interessati C'è qua il link In più È stato annunciato Copilot Studio Che non è niente Di nuovo Ok Ma non è nient'altro Che un rebranding Di Power Virtual Agent Di cui trovate La mia guida Sul mio canale YouTube Che è stato arricchito Con funzionalità AI oriented Ok Fondamentalmente Adesso è possibile Crearsi I propri GPTs Esattamente Come ha fatto OpenAI Durante la sua Development Conference Quindi io posso Andare Diciamo Su Copilot Vi faccio vedere Tolgo l'audio Su Copilot Studio Creare il mio chatbot Che adesso si chiama Il mio Copilot E posso seguire Diciamo Tutte le funzionalità Che avevo prima Di creazione Della conversazione I topic Le azioni integrate Con Power Automate Eccetera Eccetera Ma in più Sono le funzionalità Lato AI Una delle prime Che si può utilizzare Adesso è Metto un sito Proprio metto un sito web E lui Mi crea Un Copilot Che è in grado A rispondere Alle domande Fatte in modalità Conversazionale Fatte sul contenuto Che Copilot È stato in grado Di leggere Di quel sito web Ok Questa è una Delle funzionalità In più È stato annunciato Che Copilot Studio Sarà una delle modalità Che avremo Per estendere Copilot Con dei plug-in Sapete che Copilot Fa diciamo Un tot di cose Se vogliamo Per esempio Farlo accedere Al So Al mio database Attendale A SAP Eccetera Eccetera Posso farlo Ok Però Devo usare Appunto Questo Copilot Studio Con i connettori Premium Esattamente Come era prima Power Virtual Agent Identico Proprio identico Identico E dateci un'occhiata Perché Chiaramente Molto molto utile Una cosa Che poi È stata annunciata Sempre su Copilot Per Teams Finalmente Scusa Finalmente Insomma Hanno annunciato Che è possibile Interagire Con Le cose Che sono state dette Durante un meeting Su Teams Però senza Avviare il transcript Che era un po' Il limite Uno dei limiti Che aveva Copilot Finora Perché Non sempre Le persone Si ricordano Di Farlo partire E di conseguenza Se non lo facevi partire Adesso Copilot Non riusciva A risponderti Alle domande Che tu fai Sul contenuto Del meeting Magari Quando Si è entrato A metà meeting Ok Adesso lo farà Un'altra cosa Che farà Che non so Se citata Qui Si esatto Finalmente Che appunto A partire Da questo dicembre Quello che era L'intelligent Recap Che prima Era disponibile Solo con Teams Premium Adesso Sarà disponibile Anche all'interno Della licenza Di Copilot Quindi Non dobbiamo più Acquistare due licenze Per avere L'intelligent Recap Io mi chiedo Adesso Diciamo Le licenze Di Copilot Per cosa Saranno utilizzate Perché Eh no Le licenze Di Teams Premium Scusatemi Perché Adesso hanno Cioè senza Questa funzionalità Che sarà presente In Copilot Cioè di fatto Un'azienda Si compra Copilot Piuttosto che Avere Solo Il Teams Premium E senza Questa funzionalità Le Teams Premium Gli rimangono Le funzionalità Sui webinar No Posso fare webinar Con più di Di mille persone No Con più di diecimila persone Che vabbè È una necessità Molto particolare E in più Il branding E in più La security Sui Ecco sì Forse per la security Sui meeting Ecco Questa è una cosa Che può essere Buona Così a naso Le Teams Premium Secondo me O gli aggiungono Altre funzionalità O magari Boh Verranno integrate In qualcos'altro Lo vedremo Lo vedremo Bene Poi Molto carino Il copilot Nella whiteboard Che in automatico Mi mette nella whiteboard Quello che è stato detto a voce Pazzesco Dateci un'occhiata Ci sono un po' di novità Poi su Outlook Leggetevele Perché Siamo un po' a ritardo Oppure su loop Ma vi volevo Diciamo Vi volevo Mettere l'attenzione Su una Cosa Che è stata Annunciata Su Copilot per Word Che ci permette Fondamentalmente Di interagire Con le parole Sulle revisioni Sai Quando ti arrivano Quei documenti Pieni di revisioni Commenti Balle varie Ci sarà la possibilità Con quei pilot Di fare le domande Su quel contenuto Molto molto utile Oltre a questo Sono state annunciate Novità Anche per quanto riguarda Mike Sodviva C'è solo un po' Relativa a Engage Che guardiamo Molto velocemente Finalmente Sta arrivando La possibilità Di pubblicare Su Viva Engage Da Viva Amplify Che è il nostro Citofono Megafono Quindi Un punto unico Dove gestisco La comunicazione interna E mando Comunicazioni Su vari canali Questo è quello Che fa Amplify A breve Sarà disponibile Il canale Appunto Viva Engage Con la possibilità Di scegliere O specifiche community In cui far Arrivare i miei messaggi Oppure Le storyline Questo è molto bello Il fatto di Avere un punto unico Dove gestire Il contenuto Delle storyline Non vedo l'ora Di utilizzarlo Poi Sta arrivando Il pin Su più conversazioni All'interno della community Eccole qua Adesso Ce n'è solo uno E quindi Ogni volta Andava in alto Un messaggio più importante Però Se un altro messaggio Era importante Me lo perdevo Invece qua Vedete Con una nuova interfaccia Posso Averne più di uno C'è la possibilità Di fare comunicazioni Multi Organization Se vedete che Vive Engage Ha le network No Più network Possono essere O private dell'azienda Oppure esterne E qui Io posso fare Diciamo Comunicazioni Multi Multi organization Fundamentalmente E in più Sta arrivando Articles Che L'avevamo citato In aggiunta È stato Diciamo Annunciato Copilot Per Viva Che in realtà Vabbè Se ne era già parlato Però comunque Questa nuova esperienza Dove da una parte Ho accesso A una sorta di dashboard Che posso trovare All'interno di Viva Insights Per capire Quali sono i miei colleghi Che sono potenzialmente Pronti a utilizzare Copilot E lui come fa a vederlo Lo guarda In base alla loro produttività Cioè Se usano tanto Le applicazioni di Office Se lavorano tanto Sui file di OneDrive Blah 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 Allora Sono dei buoni candidati Chiaramente Se c'è il first line work Che non usa queste funzionalità Non è un buon candidato Per Copilot E lui te lo dice Così eviti L'acquisto Della licenza Poi Stanno arrivando Diciamo Funzionalità Che arricchiscono Viva Appunto Con le AI generativa Tra cui Vi faccio vedere Un po' più giù Questa è tutta Questa dashboard Che vi spiega Quanto le persone Usano Non usano Gli strumenti di Office Per essere poi Pronte per Copilot Eccolo qua Innanzitutto La chat Di Microsoft 365 Copilot Che di fatto Adesso si chiama Copilot Non è più la Microsoft 365 Chat Ma si chiama solo Copilot Ci permette Di recuperare informazioni Riguardiamolo Direttamente da Cioè ha come fonte Direttamente Viva Quindi mi recupera informazioni Vedi O dal report Fatto da Insights O da una Una conversazione Su Engage O anche dal report Fatto da Viva Glint Sul sondaggio aziendale Molto carino E sta arrivando Poi appunto Copilot per Insights Che ci dà la possibilità Ai nostri manager Di fare domande Su quello che è il contenuto Di Viva Insights Con la nostra Diciamo con le nostre parole E questo sarà Early Next year Quindi prima metà Del 2024 Copilot in goals Per farci aiutare Nella scrittura Dei nostri OKR Copilot in Viva Engage Per farci aiutare Sia nella scrittura Dei post Ma soprattutto Nella scrittura Nelle risposte Delle domande Su Viva Answers E Copilot in Viva Learning Che è molto carino Perché fondamentalmente Ci dà la possibilità Di Diciamo Chiedere Cioè fare un summary Dei learning E chiedere Informazioni Su contenuti Su cui io voglio Fare formazione Direttamente Alle AI Che chiaramente Li recupera Da quelli che sono Tutti i contenuti Che vengono messi In Viva Learning Viva Learning Visto come hub Di contenuti formativi Aziendali OK Benissimo Ovviamente Trovate Tutte queste Informazioni Che sono state Annunciate Durante Ignite All'interno Del Book Of News Proprio un sito Lo trovate Su news.microsoft.com Slash Ignite 2023 Book Of News E ci trovate Tutto Perché chiaramente Ignite Non è solo Per Microsoft 365 Live Copilot Ma per tanti Altri strumenti Per esempio È stato È stato Annunciato Loop Che è andato In General Availability Lo stanno rilasciando In General Availability E È stato Annunciato Copilot Per Azure Che è una super Novità È stato Annunciato Anche La parte Di Immersive Experience In Teams Quello che Prima era Come si Chiamava Metaverse Adesso non mi ricordo Comunque la parte Quella di 3D Insomma Di Accesso Al meeting Col mio avatar Che a me non piace Infatti Non la cito mai Nei miei Webinar Trovate tutto qua Così non Non vi sbagliate Bene Infatti una delle domande Era proprio Mattia Che dice È arrivato un avviso A parte di loop In cui accennavano Una licenza Ti volevo chiedere Se sei di qualche Cambiamento O se hai conoscenza Di quando uscirà L'applicazione ufficiale Non più in anteprima Allora L'applicazione ufficiale È stata appunto Annunciata L'ho detto adesso Loop È disponibile In tutte Le Licenze Di Microsoft 365 Che sono presenti Adesso In Microsoft 365 Ad esclusione Di alcune funzionalità Per cui È stata annunciata Diciamo Una licenza premium Una di queste funzionalità È la creazione Di più workspace E A quanto pare Insomma Serve questa licenza premium Sono informazioni Ancora un po' Da prendere con la pinza Perché Insomma Sono state appena pubblicate Non sono tanto Bene dettagliate Quindi Immagino che Le vedremo Nei prossimi appuntamenti Prossimi appuntamenti Che appunto Guardiamo insieme Perché Insomma Ci stiamo un po' Organizzando Per Il prossimo anno Come vi dicevo Qualsiasi prossimo appuntamento I contenuti Dei prossimi appuntamenti Li potete Decidere sempre voi Se scannerizzate Questo QR code C'è da compilare Un breve Forms In cui potete Proporre I contenuti Che Secondo voi È meglio Trattare In questi webinar Che facciamo Gratuiti Ogni primo mercoledì Del mese Abbiamo già fatto Via learning Abbiamo già fatto Topics Abbiamo già fatto Power virtual agent Planner pure Mi pare L'adozione Abbiamo parlato Di adozioni Max 365 E trovate Tutte queste Registrazioni Sul mio YouTube Però Se volete Nuovi argomenti Li potete Tranquillamente Proporre Facendo Lo scan Di questo QR code Per ora Io sto Organizzando I primi Mercoledì Del mese Ripartono Da febbraio Perché A gennaio Il 6 Non ce la faccio O quando era Il 9 Eccetera Non ce la faccio Proprio Però A fine gennaio Sto organizzando Un Cioè Organizzerò Un webinar Su Per vedere Insieme I trend Del mondo Delle intranet Per il prossimo Anno Sapete che Noi facciamo Tante intranet E secondo me Ha senso Vedere insieme Un po' Quelli che sono Le cose Che si possono Fare O le cose Che Diciamo Più clienti Che vediamo Stanno facendo Sul mondo Delle intranet E sarà Il 25 gennaio Le 12 E poi Ci risentiamo 7 febbraio Sempre le 12 Per un appuntamento Stile quello di oggi In cui Se volete Proporre un argomento Fate pure Anzi Sono molto contento Se lo farete Come iscriversi A questi webinar Sono gratuiti Però È utile Iscriversi Alla nostra newsletter Che trovate All'indirizzo Internet.ai Slash Join Tra l'altro Vedete il nostro Nuovo sito Che è pazzesco È vero che L'ho già detto Però Abbiamo messo Tanto impegno A fare il sito È venuto molto bello Dateci un'occhiata Perché c'è tutto C'è nuovi prodotti Nuovi prezzi C'è tutto quanto E Ecco Vi scrivete Una newsletter Gratuita Vi mandiamo Una mail Solo quando C'è il webinar Senza Diciamo Rompervi troppo Le scatole Ok Internet.ai Slash Join Questi sono i nostri Contatti Internet.ai È il sito In cui trovate Tutte le nostre Soluzioni Pronto all'uso Per arricchire Microsoft 365 Death4Side.com È Diciamo Il sito Che sponsorizza Le nostre skill A system integrator Su Microsoft 365 Ed Azure Facciamo tante Applicazioni Su Custom Diciamo Su Azure Che sfruttano Già L'AI generativa Su Internet.ai Invece Trovate il nuovo Nostro nuovo prodotto Che è il prodotto In micro learning Ci farò Un paio di video Ad hoc Così un po' Per spiegarvelo Office35.com Italia.com Invece La nostra offerta formativa E poi il mio blog personale Grazie ancora Per essere rimasti con me Fino a quest'ora E Vi auguro a tutti Un Delle buone vacanze Un sereno Natale Perché comunque Dal vivo Non ci sentiamo più Fino appunto A gennaio Ciao Buone vacanze a tutti Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.